recensione lampo ruchter di categoria 6 aggrega due bande con un piccolo limite ai connettori parentane esterna con connettori sma funziona molto bene connettore rj 11 per la telefonia volte oppure voip alla selezione delle bande in modo nativo non ha un cell lock ma si può entrare con qualche barbatrucco dentro il sistema e operare il cell lock direttamente con i comandi a t il mio solito hack informativo funziona quindi tutto bene buongiorno a tutti oggi proviamo questo router economico che mi è stato mandato da venditore ebay better to save paolo per testarlo e vedere effettivamente se venderlo poi su ebay io l'ho preso molto volentieri poi mi è stato donato questo router ci tengo a precisarlo perché tempo fa qualcuno nei commenti ha detto ah si ma te regalano le cose poi dopo non puoi parlarne male insomma sono dubbi leciti però in questo caso non è che mi è stato regalato per per un prodotto che era già sul che stava già vendendo ecco mi è stato dato dato cristian prova a vedere un po come funziona questo router e ho detto si funziona bene questo router venduto alla cifra giusta va più che bene e come vedete questa cifra è molto giusta per un router di questa categoria anche perché va a scontrarsi direttamente con router tipo il tp link il 6600 o il huawei 535 fatta questa premessa passiamo a vedere il router come si presenta andiamo subito nel nostro bel unboxing dei poveri e vediamo come si presenta al router questa è la scatola portate pazienza non si chiama unboxing dei poveri a caso perché fatto alla carlona così questa è la scatola le solite istruzioni che legge nessuno il router il cavo di rete il suo alimentatore questa è una staffetta che va innestata dietro per tenerlo in piedi questo l'alimentatore 12 volt un ampere e mezzo quindi 18 watt massimi o facendo i miei test a riposo non a riposo consuma circa sempre 6 watt in realtà riposo l'ho visto 6 watt quando scarica forte sale di qualcosa ma considerate praticamente 6 watt fissi o quasi questo è il router come si presenta è carino si mette in verticale qua c'è lo sportellino che protegge i due connettori d'antenna qui si innesta quella placchetta che vi dicevo prima quella staffetta il reset power un power fisico quindi non quelli digitali odiosi quindi accendete spegnete direttamente da qui funziona bene ingresso d'alimentazione solito connettore che può essere lan one e le altre prese di lan normalmente sono tutte impostate come lan e questa è la presa per il telefono ho provato il telefono ve lo dico già direttamente qui con team e funziona al volte l'ho provato con o mobile e funziona il volte l'ho provato con win3 ma con win3 non funziona non so neanche se attivo onestamente fa il downgrade la connessione in 3g quindi va bene riuscito a telefonare perché va in 3g però avete un downgrade della connessione io tendenzialmente cerco di non usare mai il traffico voce di queste delle sim di questi router eccoli qua e due bellissimi connettori sma che ci piacciono tanto perché sono robusti al contrario dei ts 9 che sono sempre dei baracchini che rischiano sempre di spezzarsi sulla motherboard questo è pulsantino per il vps che non uso mai e qua insomma una sfilata di router tanto per far vedere le dimensioni come sono comunque abbastanza contenute qua sopra ci sono tutta una serie di led che vi dicono lo stato di accensione o meno se c'è rete o meno se è attiva la connessione lte è un indicatore di segnale che cambia anche di colore è verde se il segnale abbastanza buono o rosso se abbastanza scadente è un indicatore anche del wifi attivo o meno qua si inserisce la micro sim e direi che siamo a posto per questo già che ci siamo vi mostro anche questo delle voci che ho sbagliato le cartelle va bene ecco qui è uno screen dove si vede che ero con o mobile in condizioni veramente di segnale scadente quindi non guardate lo speed test penoso vabbè il ping normale durante lo speed test qua avevo il telefono alzato stavo telefonando ero involte quindi mi andava in b1 tra l'altro è una bts veramente penosa che ho vicinissimo a casa un disastro sta bts preferirei che non ci fosse proprio questa invece è con team come vedete sono andato avanti a telefonare senza problemi e qui invece qua notavo c'è connection down ma in realtà non è vero ero collegato e stavo telefonando mentre invece questo è con win3 win3 vedete questo b100 in realtà è passato in 3g e si è abbassato ovviamente anche la velocità quindi questo per quanto riguarda il telefono direi bene perché spesso mi chiedete questa cosa io sono sincero non uso il telefono attaccato preferisco usare il mio cellulare direttamente e basta però vedo che c'è sempre una richiesta per dispositivi che supportino il volte senza problemi a questo punto come sempre ci facciamo questo innanzitutto è il venditore il canale poi vi lascio sotto il link per prenderlo eventualmente questa è la pagina per i provider che volessero comprare questi router in quantità ma intanto a noi interessa vedere quali sono le caratteristiche già elencate qua possiamo attaccare ovviamente le antenne esterne c'è un selettore software per decidere se usarla meno a dual one failover vedete qua vi dice che categoria 6 non categoria 4 potete metterlo in mode in bridge mode se volete assegnare l'ip della one direttamente a una macchina sotto il router e va bene solite cose è in categoria 6 c'è la sua applicazione zxlr che vi permette di eventualmente controllare i parametri ecco volevo dire anche questa cosa dimentico sempre sono stato bacchettato sempre nei commenti ultimamente un periodo che mi bacchettate che non si dice zyxl ma si dice zyxl ma a me ormai l'ho imparato così e dico zyxl mi spiace però diciamo che lo sto pronunciando in modo veramente improprio e sbagliato vi faccio vedere subito dove l'ho provata questo router solito mio paese abito a salve un paesino nel basso salento in puglia abito circa da queste parti in questa la bts fetechia che va male e mi sono collegato principalmente a questo per fare i miei speed test sia da dentro casa senza antenna esterna che vicino al tetto con antenna esterna puntando sempre questa bts invece quelli che avete visto quando si collegava ero collegato quando provavo il telefono ero collegato qua andiamo a vedere adesso subito l'interfaccia qua sono già dentro facciamo un uscita così non vedete proprio dall'inizio ok inizialmente la password la trovate sul retro del router poi ve la fa cambiare interfaccia classica zyxl allora la sigla non me la ricorderò mai lo chiamo zyxl e basta ma è un lt e 3 3 16 m 604 grazie zyxl per questi nomi facili da ricordare qua in realtà potete spostare un po le informazioni come preferite ma vabbè è il solito software zyxl nessuna novità funziona bene non sono un fan di questo software ma niente da dire pigiate qua avete le informazioni avete l'ip avete dns direttamente questo è l'ip della one sto sta funzionando in router mode idns con me sta andando la wifi che è di tipo 5 quindi abbiamo una rete a 2 4 e 5 gigahertz quali fa vedere anche la velocità e adesso andiamo a vedere tutte le altre solite parti qua vi da qualche indicazione sulla banda a cui connessi in questo momento la banda primaria però vi mostro direttamente l'acta e facciamo partire questo così la che non fa nulla di che non fa nessun barbatrucco vi mostra semplicemente le informazioni in un modo un pochettino più comodo tra l'altro c'è questo bug bug sempre sul mio h che vi mostra che questa parte 5g devo correggerlo prima o poi lo correggerò non lo vedrete ovviamente è un router solo 4g quindi questa parte come vedete vi da dei valori senza alcun senso questo è il numero della vostra bts se cliccate siete loggati su lt e italy vi porta direttamente sul sulla bts va bene questa è quella scadente diciamo che è la mia solite questa qui comunque cliccando su quel numerino vi porta direttamente con la pagina vedendo il numero di cella e la banda che sta utilizzando e la banda passante utilizzate in app e in download qua in questo momento non sto facendo nessun tipo di aggregazione poi faremo due tre prove per fare partire l'aggregazione lag funziona ma è un po lento ma non è un problema del lag purtroppo è router che restituisce un po lentamente le informazioni quando le legge dal modo nessun problema anche perché non è che passate la vita con la una volta che avete fatto due o tre impostazioni non vi interessa quindi direi che ci siamo andiamo a vedere tutte le impostazioni allora questa qui come al solito cerco di mostrarvi tutto sia per voi che per me perché poi mi si vengono fatte delle domande io ho una memoria pessima e vado eventualmente a rivedere il video l'impostazione del wifi bla 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 la lan e potete anche impostare il il is time e tutto quanto come solito andiamo a vedere il resto qui network setting broadband abbiamo qui dove si cambia la pn allora a me sotto in treno forse l'ho dovuto mettere in automatico praticamente no la pn l'ho impostata da qui cliccate qui e potete o metterlo in automatico oppure lo mettete in manuale mettete quello che volete si imposta qui mi mostro come sempre le solite impostazioni potete impostare l'avete già visto su tutti gli altri zig zag che ho presentato è identico praticamente potete dire che la porta ethernet 1 è diventa una one a quel punto si abilitano tutte quelle funzioni di failover non ve lo mostro in questo momento ma negli altri miei video tipo del m904 m804 è identico il software è sempre lo stesso a niente mi ha logato fuori quindi se era un po' incarciofato niente di male l'acma si lo lanciamo eravamo quindi in network broadband e stanno vedendo qua esattamente qua potete impostare se utilizzare l'antenna interna adesso ha dentro casa e quindi lo tengo su interno mi raccomando non fatelo funzionare con antenna impostata in esterna senza antenna perché non è una buona cosa allora qui vi ho fatto già vedere impostate la pn qua eventualmente se volete mettere il pin io ve lo sconsiglio disattivatelo il pin su questi tipi di connessione qua stavo facendo delle prove poi vi racconterò meglio anzi ve lo dico subito categoria 6 anche questo router che monta un quectel il solito e m06 bla 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 non riesce a aggregare la banda 1 con la banda 3 o la banda 7 non ho fatto prove perché non posso farlo con altre ma sicuramente quella 3 e la 7 non aggrega questo è forse l'unico limite di questo router ma non è un gran problema parlando di selezione delle bande spesso si parla di selezione delle bande anche su router più performanti di questo ma proprio sui router piccoli è importante perché perché se io ho una bts con quattro bande e il router decide in autonomia di fissarsi su delle bande poco prestanti avrò delle prestazioni scarse proprio su questi router che magari hanno solo due bande è importante poter decidere e fissare anche se state attenti perché soprattutto win3 spegne le bande durante il giorno in comuni poco popolati dove non c'è grande traffico quindi c'è sempre il rischio di rimanere a piedi quindi se è un router che deve stare in una casa isolata magari avete un antifurto cose del genere lasciateli in automatico è meglio avere poca banda ma essere sempre connessi che avere il rischio di una disconnessione se invece un router di casa potete giocare nel mio caso la cosa migliore è mettere banda 3 e banda 7 come cambia la banda lento veloce impiega un pochettino a dire la verità allora vi mostro questo semplicemente perché l'hack non è istantaneo mostrare i parametri quindi adesso come vedete qui io ho fatto il cambio banda adesso tra poco si ricollega dovremmo esserci quasi ormai eccolo qua se collegato vedete l'hack non è ancora non si è ancora ripreso semplicemente il modem interno non ha ancora comunicato al router in realtà il contrario cioè il router non ha ancora interrogato il modem interno per capire se collegato o meno comunque siamo collegati andiamo avanti quindi io tengo banda 7 banda 3 non sta aggregando in questo momento ci può stare semplicemente perché non ha un carico di sulla rete quando iniziato a dargli un po di carico spesso l'aggregazione parte adesso io sto lanciando una speed test in casa che non è neanche niente male con i muri che ho potrebbe aggiornarsi qui in teoria se c'ha voglia perché infatti come vedete è arrivata in ritardo in realtà questo istante non sta neanche aggregando perché sto facendo il test in upload come vedete va un po a rilento però le informazioni arrivano quando viene il rosto è proprio che all'aggregazione attiva andiamo avanti questo il plmn in realtà è la selezione dell'operatore ma lasciatelo così che va bene qui se volete impostarli in bridge mode e quali sms foto due tre prove con gli sms non ce ne sono problemi aspettiamo niente ok non c'è un tubo di niente va bene andiamo a vedere le altre voci wireless queste sono le opzioni ve le mostro rapide country default chissà per lei default che cos'è ma va bene qua potete impostare il guest la rete per gli ospiti vuoi fare delle impostazioni sul mac address ok dovete fare sempre un white list o in black list insomma sempre le solite cose il software è identico funziona bene devo dire avete addirittura queste impostazioni va bene qua potete fare anche una scan delle delle reti che ci sono in giro possiamo andare avanti home networking qua impostate tutto quanto potete impostare anche dns qua impostazione completa sull'ipv4 poi tutte le parti anche sull'ipv6 che io ovviamente non uso no non è ovviamente ne sento parlare da anni dell'ipv6 avremo tutti l'ipv6 ma dopo anni e anni siamo ancora qui che non è proprio ancora così vero non è ancora così per tutti quindi per il momento sono ancora contento con il mio bel ipv4 anche natato che male non fa e andiamo avanti allora questo l'abbiamo visto qua va bene tutte le rotte questa è roba un pochettino per più gli smanettoni lo faccio vedere rapido perché magari può tornare comodo diciamo che un utente standard non lo utilizzerà questa è la realtà però è apprezzabile che sia un router non così basilare ecco mi sono perso va bene qua abbiamo il port forwarding la dmz se vogliamo invece ovviamente port forwarding se avete una sim con ip pubblico la dmz se volete ridiriggere tutto il traffico che arriva sulla one verso una macchina interna e va bene queste sono le solite cose quindi andiamo avanti dns ok potete mettere queste sono le opzioni eventualmente per il setup del dna per assegnare al vostro ipv1 un nome di dns dovete avere un servizio su questi provider qua andiamo avanti security abbiamo il firewall andiamo rapida perché veramente sempre uguale è comunque simpatico che abbiano dato anche su un dispositivo di fascia bassa tutte queste opzioni andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti abbiamo un po di log abbiamo va bene un po di statistiche varie ok va bene qua eventualmente se volete registrare anche il no ok qui non è che si registra vi dice se siete registrati o meno a un servizio voip eh questo l'abbiamo schippato vabbè adesso lo riguardiamo rapido l'arp table va bene questa roba per smanettoni routing table vediamo lo stato della one ovviamente io sono collegato in ethernet sapete che io non amo wifi ok qua vi da lì praticamente vi dice ogni 15 secondi com'è lo stato di connessione siete in banda 7 primaria dovrebbe indicarvi anche forse la secondaria ma usate la che è 100 volte meglio più comodo la parte di voce dovete impostarlo se tenerlo in voip o in volte e poi se lo tenete in voip potete fare tutte le impostazioni del caso qui quindi potete andare impostare il server l'account e tutto quanto va bene andiamo avanti quindi abbiamo vabbè chi avete chiamato chi non avete chiamato in realtà queste sono dei delle chiamate rapide in realtà non le ho mai provate penso che facendo una combinazione vi permetta di fare una chiamata rapida e invece con questo call history avete l'elenco delle chiamate fatte ok qui in manutenzione abbiamo system va bene questo poi abbiamo user account adesso sono dentro come administrator come admin remote management potete decidere quali porte aprire ssh telnet quello che volete dopo vi faccio vedere dentro il telnet com'è tr069 solo per i provider non ci interessa time se volete usare un client ntp per sincronizzare l'orario del router log setting decidete cosa loggare è decisamente decisamente avanzato come software anche se sapete che il mio preferito rimane sempre microtik però niente da dire molto bello ecco firmware discorso firmware quando vi arriva andate su questa pagina no non questa questo dove è? ce l'ho qui eh eccolo qua su questa pagina vi lascio il link poi comunque si trova facilmente e scaricate questo firmware questo è l'ultimo firmware a disposizione 17 febbraio quindi piuttosto recente scaricatelo e installate il file se non sbaglio in .bin vediamo fate così fate download e lo tirate giù ecco questo è il file scompattato ci sono le note voi dovete caricare questo file qua ok? quindi una volta caricato avete il firmware esatto che sto testando io in questo momento e che dire mi sa che abbiamo finito con il nostro giro vabbè qua ho fatto il reboot le solite cose e la diagnostica avremo il solito ping va bene le solite cose ultima cosa da dire che forse non ho detto le lingue a disposizione sono solo su questo modello particolare che arriva da Paolo better to save sono solo queste due ma va bene l'inglese anche perché ho provato altri router con la traduzione in italiano mancavano addirittura delle voci di menu quindi quando avete il dubbio c'è qualcosa che non quadra mettete l'inglese che è sempre meglio adesso vi mostro un piccolissimo video che ho già girato vi faccio vedere che si può entrare dentro il router direttamente in telnet come root cioè l'utente con i massimi privilegi in un sistema linux questo vi permette di arrivare a lanciare al modem delle istruzioni at di cell lock attenzione perché se lanciate delle istruzioni a caso rischiate di fare danni non andate a scaricare i comandi a t di questo modem e lanciateli a caso pensando di fare la magia perché rischiate di romperlo se invece lanciate quelli classici di cell lock non ci sono problemi e anche se sbagliate un parametro al massimo non si collega non ci sono rischi ma non lanciate i comandi a caso mi raccomando come si ricava la password di root perché serve una password di root la password di root ho fatto vedere come si ricava nel video dello zigcell 7101 o i fratellini categoria 12 e categoria 18 e l'ha spiegata ancora meglio Alessandro nel video del zigcell 7101 quindi ci sono dei codici in giro che vengono se fatti eseguire su una macchina linux una vps quello che volete voi infilate dentro il numero seriale del vostro router e lui vi restituisce la password di supervisor comunque adesso vi faccio vedere qua come ho fatto io quando sono entrato io mi ero già ricavato ok qua ho sbagliato qua doveva scrivere root fate root incollate la password e voilà siete dentro al router a questo punto potete lanciare questo comando che praticamente va a colloquiare direttamente con il modem interno ok a questo punto potete lanciare i comandi dice at ok ci risponde poi chiediamo at info e ci dice esattamente che tipo di modem abbiamo dentro qua invece chiediamo quale bande sono collegate qua avete molti più dati perché vi da anche i dati sul segnale che arriva eventualmente se la sta aggregando o meno vi da l'erfcn che è questo qui oppure questo e il physical cell id che è questo qui in questo caso quindi a questo punto vi mostro invece come 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 portate pazienza che mi perdo con tutti questi file ecco questi sono i comandi che si utilizzano questo è un comando per chiedere ho un tipo di cell lock di qualche tipo e il modem vi dirà sì no questo invece è un comando per dire disabilita il cell lock invece questo è un comando per dire effetto un cell lock solo su una cella con questo erfcn e questo pci se magari volete fare un lock a due celle potete fare due però a questo punto lui si aspetta un'altra cella quindi voi gli date un overfcn e un physical cell id e basta queste sono le cose più importanti eventualmente qua ci dà altre informazioni sulla cella sulla cella che ci sta servendo e qua invece fate una scansione delle celle vicine per capire quali quali avete qui vabbè vedete le mie non usate questa perché non funzionerà sul vostro perché dipende dal dal seriale quindi che dire ultima cosa da dire ancora abbiamo vabbè vi ho già detto del problema della banda 1 però è abbastanza limitato come vedete io ho banda 3 7 mi metto sulla 3 7 che la banda 1 non è neanche sta gran banda normalmente e tanti saluti e non è un problema di nessun tipo il router è onesto io l'ho usato per lavorare diversi giorni ha funzionato bene ecco questo forse mi mancava da dirvi scusate se faccio un po' di macello pausa pranzo come va l'interruzione con win 3 va abbastanza bene si riprende abbastanza bene ma non è velocissimo intendiamoci non è che si impiega qualche secondo in più sia la fine del mondo soprattutto con i servizi di streamer si riprende cioè non ve ne accorgete neanche ve ne accorgete se state in una partita o se avete una sessione ssh accesa aperta ecco come vedete adesso qua sono sempre collegato a un certo punto si vedrete che non pingherò più perché win 3 come sapete ogni 4 ore ci tronca la connessione ogni 4 ore ho detto giusto si ecco come vedete qua sono scollegato ci sono router più o meno veloci a riprendersi ok però adesso come vedrete si ricollega ci siamo quasi eccolo qua ed è ricollegato allora più che la velocità in assoluto va bene qua poi dopo ho provato a ricaricare la pagina l'ip è cambiato più che vedere la velocità di riconnessione secondo me è più capire se il router si ricollega perché se non dovesse a ricollegarsi potrebbe essere un problema dovrei rientrare e fare tutto a mano angolo del tamarro incredibile stavo dimenticandomi di farvi vedere il tamarro sto invecchiando veramente allora eccoci qua questo è un test fatto in casa con win 3 muri spessi perfettamente in linea poi ovviamente si inizia a pigiare di qui pigiare di là sempre alla ricerca anzi forse qua probabilmente non avevo ancora settato le bande poi qua le ho smanacciate infatti è passato anche un po' di tempo le ho smanacciate probabilmente ho messo la 3 e la 7 e l'ho messo nel mio punto magico in casa che è dietro al monitor pensate voi e devo dire che per un categoria 6 buttato in casa un segnale non eccellente è molto buono poi ho deciso di buttarlo sul tetto buttato sul tetto un attimo che non si vede tutto questo è il risultato inizia a essere veramente interessante ricordatevi di spostare su antenne esterne qui come vedete ho dato un po' di comandi di spacciugamento miei soliti al modem e qua andavo sempre meglio come vedete è salito ancora questo fatto alle 11 del mattino sempre 11 del mattino valori ottimi qua alle 16 e 57 valori sempre migliori sempre migliori ma poi la mattina uno non dorme cosa fa? speed test 7.36 mi sono messo lì dai dai spingi spingi e sono arrivato fino a qua che direi che insomma un categoria 6 si c'è Francesco in un gruppo telegram telegram che mi dice si solo tu fai 200 al cat 6 diciamo che non è non è la regola ecco non vi aspettate di prenderla a 200 perché bisogna essere veramente nelle condizioni migliori per poterlo fare ecco quindi qualche conclusione io l'ho visto anche su Amazon a un prezzo troppo alto onestamente è troppo alto ma anche andando a vedere lo score lo storico è proprio sballato sto prezzo qui diciamo che questo era un prezzo più standard più normale però lasciate perdere tutto lasciate perdere Amazon in questo caso prendetelo qua sono prodotti usati ma tenuti molto molto bene sono prodotti che arrivano da ISP che li dismettono magari perché sono stati chiusi i contratti a un prezzo ottimo i feedback vabbè è inutile guardatevelo voi 100% positivo con qualche vendita quindi direi che ci si può fidare se ci sono problemi contattate Paolo ma 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 c'è una piccola sorpresina perché c'è stato riservato uno sconto ulteriore con questo codicillo qui quindi abbiamo altri 10 euro in meno e vi faccio notare che è valido anche su questi altri router che vende quindi ve lo portate a casa 69 euro insomma 70 euro non è niente male niente male questo io lo otterrò non lo venderò perché è un router affidabile lo mettete lì e va fine quindi sono contento di tenermelo mi tornerà comodo anche per aggiustare ogni tanto gli hack spero vi torni comodo un saluto a tutti un saluto anche a Paolo che mi ha dato l'opportunità di testarlo un saluto a tutti ciao